Iniziamo questa esercitazione Prima cosa dobbiamo aprire i file storia di Praga Quindi andiamo al menu file Apri Andiamo a cercare La nostra cartella E in essa troviamo storia di Praga Ora dobbiamo selezionare tutto il testo Quando abbiamo bisogno di selezionare un intero testo Possiamo usare la scheda home Il comando sostituisci Scusate Troviamo selezione Seleziona tutto Ora con il testo selezionato Vogliamo imporre il carattere Il font cambia dimensione 14 Allora possiamo usare la scheda home Cambia Dimensione 14 In maniera analoga Abbiamo La scheda La finestra di dialogo carattere Oppure Tasto destro E abbiamo Anche in questo caso Dal menu a comparsa La possibilità di cambiare il tipo di font E la dimensione del carattere Proseguiamo nell'esercizio Impostare l'interlinea a 1,5 righe Allora L'interlinea è lo spazio bianco Che c'è fra una riga e l'altra Che possiamo variare Usando questo pulsante Questi numeri vanno intesi in proporzione Alla dimensione del carattere 1,5 vuol dire per esempio Creare uno spazio bianco Che sia pari a una volta e mezzo Alla dimensione del carattere E così via 2 significa Uno spazio bianco Che sia due volte La dimensione del carattere E così via Notate ancora che Un'altra opzione Compara questa finestra di dialogo Che poi corrisponde Alla finestra di dialogo paragrafo Quindi Se clicchiamo qui Oppure clicchiamo direttamente qui Abbiamo la stessa finestra Per l'interlinea possiamo anche avere Un'interlinea multipla Cioè avere un'interlinea che sia 3, 4, 5, 6 volte la dimensione del carattere Oppure per esempio Un'interlinea esatta In cui andiamo a determinare Con precisione Millimetrica Millimetrica Degli altri punti tipografici Dell'interlinea O minima Che è equivalente Quindi dicevamo Noi dobbiamo fare 1,5 righe Ok Poi abbiamo la spaziatura Dopo 12 punti Per capire che cosa è la spaziatura Dobbiamo innanzitutto dire Che cosa è un paragrafo In Excel si intende il paragrafo Tutto il testo che si ottiene Cliccando Invio O meglio Ogni volta che Usa il tasto invio Da tastiera Ogni volta che Vado a capo Io creo un nuovo paragrafo Quindi ho creato un nuovo paragrafo qui 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 Ogni volta che vado a capo Ho creato un nuovo paragrafo Ora Io voglio Aumentare Lo spazio bianco bianco, non fra una riga e l'altra, ma fra un paragrafo e l'altro. Questo spazio bianco ulteriore che posso aggiungere fra un paragrafo e l'altro si chiama spaziatura. La spaziatura la trovo nella scheda di dialogo paragrafo. Come vedete abbiamo una spaziatura che posso inserire prima del paragrafo o dopo il paragrafo. In questo caso l'esercizio si chiede di inserire una spaziatura di 12 punti tipografici dopo il paragrafo. Andiamo avanti, poi abbiamo l'allineamento giustificato. L'allineamento delle righe con i margini del foglio. Come possiamo vedere abbiamo l'allineamento sinistro, dall'allineamento centrato, dall'allineamento a destra e giustificato. Quindi giustificato l'allineamento per il quale le righe sono tutte dalla stessa lunghezza e perfettamente allineate sulla sinistra, sul margine sinistra e sul margine destro. Nella scheda paragrafo abbiamo l'allineamento qui. Rientro della prima riga di un centimetro. Per rendere elegante il nostro testo possiamo far rientrare la prima riga rispetto alle altre righe del paragrafo. Andiamo al paragrafo. Ora attenzione alla linea. L'allineamento sinistro si riferisce a tutte le righe del paragrafo, cioè posso aumentare la rientranza di tutte le righe del paragrafo rispetto al margine sinistro oppure rispetto al margine destro. Posso far rientrare ultimamente a destra o a sinistra. Nel nostro caso non voglio far rientrare tutte le righe, ma soltanto la prima riga. Quindi devo fare allineamento speciale, prima riga, e imporre la quantità di questo rientro. Ora vediamo ancora le domande. Selezionare le prime quattro righe e imporre carattere 10 in linea 1 e spaziatura 0. Allora, in realtà non sono le prime quattro, ma sono le prime cinque. Mi ho detto che il carattere deve essere 10, interlinea 1, spaziatura 0. Poi bisogna applicare un elenco numerato e poi puntato. Allora, l'elenco numerato è questo. L'elenco puntato è questo. In entrambi i casi, cliccando sulle freccette, possiamo cambiare lo stile dell'elenco. Così anche per l'elenco puntato. Una cosa importante da tenere presente è che un elenco puntato numerato non mi introduce un simbolo a contraddistingere ogni singola riga, ma ogni singolo paragrafo. Qua vedo un simbolo per ogni singola riga perché ho paragrafi formati da una sola riga. Se avessi avuto paragrafi formati da più righe, avrei avuto un simbolo o un numero, a seconda se usavolo l'elenco puntato o numerato, non per ogni riga, ma per ogni paragrafo. Selezionare il titolo Storia di Praga e trasformarlo tutto in maiuscole all'ulto. Storia di Praga non ho bisogno di scriverlo da capo perché ho il pulsante maiuscole e minuscole nel quale posso scegliere, per esempio, tutto maiuscole. A questo titolo voglio imporre uno stile titolo 1. Allora, in Word abbiamo una serie di stili preimpostati. chiede di applicare lo stile titolo 1. Ancora, sempre a questo titolo applicare un colore di sfondo viola e il colore del carattere bianco. Allora, per applicare uno sfondo a un paragrafo selezionato abbiamo questo pulsante. Per cambiare il colore del carattere abbiamo questo pulsante. se ci interessa, per il carattere possiamo usare la scheda, la finestra di dialogo carattere e scegliere qua il colore del carattere. Per il colore di sfondo del paragrafo Qua non si può fare, vabbè. Allora Troviamo adesso la prova Moimir e dopo di esse creare un nuovo paragrafo. Allora per cercare una prova all'interno di un testo possiamo farci aiutare dal computer abbiamo il comando Trova Oppure abbiamo il comando Ricerca avanzata che fa uscire la finestra classica di Trova e sostituisci Scriviamo esattamente la prova da cercare Attenzione a non avere nessun testo selezionato altrimenti lui cercherà non in tutto il testo ma soltanto nella selezione e lo ha trovato ora l'esercizio chiede di creare un nuovo paragrafo dopo questa parola creare un nuovo paragrafo per quando abbiamo detto prima significa semplicemente cliccare sul tasto premere il tasto invio da tastiera e andare a capo Sostituire in tutto il testo la parola Costantinopoli con la parola Bisanzio Allora, usiamo il comando Sostituisci Trova Costantinopoli e sostituisci con Bisanzio Notate che Costantinopoli l'ho scritto con la minuscola perché come abbiamo già visto in Excel c'è l'opzione maiuscola e minuscola se è disattivata la parola mi verrà cercata soltanto in base alle lettere che la compongono e indipendentemente dal fatto che sia stata scritta con maiuscolo o minuscolo però devo fare attenzione a come scriverò la parola nella finestra Sostituisci con perché il computer sostituirà le parole usando esattamente la stringa di caratteri che ho scritto per cui se per esempio Bisanzio la scriverò con la b minuscola poi il computer scriverà dappertutto Bisanzio con la b minuscola a questo punto con Sostituisci faccio una sostituzione alla volta con Sostituisci tutto faccio eseguire contemporaneamente tutte le possibili sostituzioni all'interno del computer cercare la parola Rodolfo II e portarsi sulla quarta occorrenza quando ci sono più occorrenze dello stesso testo all'interno del mio documento conviene usare trova che mi mostra tutte le occorrenze devo la parola all'interno del testo a me serve la quarta occorrenza eccola qua prima di essa inserire un'interruzione di pagina allora io per qualche motivo voglio interrompere qui il testo e voglio spostare tutto il resto del documento alla pagina successiva allora è molto semplice si si mette prima della parola Rodolfo II e poi si va alla scheda inserisci interruzione di pagina quindi tutto il resto del testo è stato spostato alla pagina successiva cercare la parola Asburgo e evidenziarla automaticamente allora quando andiamo a fare una ricerca usando ricerca avanzata metto la parola da cercare e posso chiedere mediante il pulsante evidenzia di evidenziarla come vedete ha trovato tutte le parole Asburgo e le ha messe in evidenza cercare il testo in grassetto togliere il grassetto e metto il cursivo allora questo esercizio mi consente di far vedere che con la ricerca avanzata io posso anche cercare non un testo ma in base alla stringa di caratteri che lo compongono ma cercare in base al formato voglio cercare un testo che sia scritto in grassetto trova formato carattere grassetto quindi gli sto dicendo di cercare una qualunque stringa di caratteri che però sia scritto in grassetto trova successivo e si porta sul testo ora mi chiede di togliere il grassetto il grassetto viene dato a questo pulsante se clicco disalvire del grassetto per mettere il cursivo basta che clicco su questo pulsante inserire all'inizio della seconda pagina l'immagine Praga JPEG allora seconda pagina inserisci immagine Praga inserisci ridurne le dimensioni al 25% allora compare la scheda formato perchè ho l'immagine selezionata vi ricordo che la scheda formato non compare se l'immagine non è selezionata adesso le dimensioni se clicco su questo pulsante ho la scheda di dialogo dimensione in cui è riportata anche l'altezza e la larghezza in percentuale e la porto al 25% a questo punto vediamo ancora imporre lo stile ovale metallico allora abbiamo vari stili immagine possiamo facendo attardare il mouse su ognuna delle icone posso leggerne il nome e trovo ovale metallico ora adesso voglio cambiare l'amnesità al 20% e aumentare l'amnesità del 20% e il contrasto del 20% allora nella scheda formato posso usare il pulsante correzione e andare a cercare con calma luminosità più 20% e contrasto più 20% che sarebbe questo oppure faccio posizione correzione immagine e posso usare alternativamente questi pulsanti e posso usare alternativamente le pulsanti le pulsanti e posso usare alternativamente le pulsanti e di questo ma le pulsanti e di questo pochino apprezzo le pulsanti le pulsanti e le pulsanti le pulsanti le pulsanti andiamo avanti inserire in fondo al documento il video un PEG una PEG è una possibile standard per i file video allora ah scusate qua non è completato imporre la posizione in alto a destra con testo incorniciato sempre dalla scheda formato ho il pulsante posizione intuitivo posso decidere la posizione dell'immagine interna del testo e poi posso anche decidere come è distribuito il testo, come dice fosse il testo rispetto all'immagine e questa è la posizione in alto a destra che consente anche al testo di incorniciare l'immagine dicevamo numero 13 inserire in fondo al documento il video program PEG allora andiamo in fondo al documento mettiamoci in una riga successiva a questo punto andiamo a inserisci noi vogliamo inserire un file quindi dobbiamo fare inserisci oggetto a questo punto l'oggetto l'abbiamo già su un file quindi dobbiamo fare crea da file sfoglie andiamo a cercare il nostro file video inserisci vi ricordo questa opzione collega al file se attiva questa opzione il file non viene realmente inserito all'interno del documento ma viene creato soltanto un link se togliamo questa opzione il file viene realmente fisicamente incorporato nel file Word per attivare il video basta cliccare sull'icona fare un doppio clic per aprire il file controllare ortograficamente tutto il testo ignorando i nomi stranieri allora anche in questo caso prima di diffondere un documento conviene andare a fare la verifica mediante revisione la scelta revisione contro l'ortografia e grammatica e che se oltre all'ortografia controlla anche la grammatica se vogliamo disattivare il controllo della grammatica e lasciare soltanto il controllo dell'ortografia deselezioniamo questa opzione controllo grammatica di modo che vogliamo controllare soltanto l'ortografia se un termine viene segnavato come errore soltanto perché è una parola straniera ricordate che possiamo fare ignora questa volta ignora tutto cioè ignora in tutto il testo oppure insegnare al computer cliccando su aggiungi al dizionario quando troviamo una parola che in realtà è scritta male possiamo correggere manualmente o accettare un suggerimento un suggerimento trasformare la frase un peggio in cima al documento e farne il link al sito www.praga.net allora, seleziono la frase, inserisce, collegamento ipertestuale e qua scrivo l'indirizzo della pagina web da visitare da notare che in Word per attivare un link bisogna tenere il tasto CTRL da cremuto e il link diventa attivo ora, mi imponta documento creare una tabella con sette righe e due colonne inserisci tabella possiamo costruire la tabella in questo modo se abbiamo difficoltà possiamo usare inserisci tabella ed esplicitare il numero di colonne e il numero di righe che ci interessa adesso dobbiamo copiare il testo oppure io velocemente faccio così ecco qua ora, aggiungere una riga in testa alla tabella e scriverci evoluzione demografica unire le celle e scrivervi evoluzione demografica allora, per aggiungere un'altra riga in testa basta mettere nella prima riga notate che se sono nella tabella compenno due schede per lavorare sulle tabelle progettazione e layout vado nella scheda layout e faccio inserisci sopra per unire le due celle in modo da formare un'unica cella uso il pulsante naturalmente le devo tenere selezionate e poi faccio unisci celle ottenuto un'unica cellula adesso posso scrivere evoluzione demografica applicare uno stile tabella a piacere allora, selezionate la tabella nella scheda progettazione o degli stili preimpostati fra i quali scegliere inserire nel documento un grafico a torto basato sulla tabella allora per inserire un grafico a torto mettiamoci qui ancora una volta inserisci posso inserire un grafico ora notate che il Word funziona in questo modo Excel crea un Word crea un grafico fa comparire una finestra in foglio Excel in cui ci sono dei dati di esempio ora per diagrammare quindi i miei dati devo sostituire i dati di esempio con i veri dati allora per esempio prendo la tabella seleziono le celle che contengono i dati copio vado qui nella cella 1 e faccio incolla e così ho selezionato ho aggiornato i dati del foglio a questo punto posso chiudere il foglio Excel notate che sui grafici posso fare le stesse cose le stesse operazioni che ho imparato a fare in Excel per cui gli stessi tre identici le tre identiche schede progettazione, layout e formato quindi le stesse cose le cose che abbiamo imparato a fare in Excel le possiamo fare pari pari anche in Word l'unica cosa che in Word abbiamo nella scheda progettazione modifica dati pulsante che consente di far ricomparire il foglio che contiene i dati del grafico e quindi di poter apportare delle modifiche ai dati che sono rappresentati dal grafico collegare i file Excel Meteopraga e interrompere poi il collegamento allora aspettiamo che si riprenda il Word ok allora io voglio inserire un oggetto in sostanza da file si chiama Meteopraga però stavolta lo voglio inserire mediando un collegamento quindi non lo voglio realmente incorporare all'interno del file Word quindi adesso mi compare un'immagine del foglio Excel però è in realtà un link a un file che continua a essere esterno al documento Word ora che cosa succede succede che quando andrò a modificare il documento Excel per ottenere di vederne le modifiche nel documento Word dovrò fare tasto testo aggiorna collegamento in modo da aggiornare anche nel foglio Excel nel documento Word le modifiche che è portata nel foglio Excel se a un certo punto voglio interrompere il collegamento e che significa che voglio fare in modo che su Word rimanga una vecchia immagine del contenuto del documento foglio Excel ma non avere più un collegamento con quel file di ovario tasto destro in modo che interrompi quindi tasto destro collegamenti interrompi collegamento da questo momento in poi questa è una semplice tabella vedete se ci clicco sopra non si apre più il file Excel che era originariamente collegata è rimasta adesso una semplice inerte tabella con dei dati all'interno che non ha più a che fare niente a che fare con i file di origine copiare il contenuto del file a persone legate a Praga incollarlo come test in storia di Praga allora usiamo il comando apri cerchiamo persone legate a Praga selezioniamo tutto copiamo incollare come test in storia di Praga che cosa significa questo test originario ha una sua formattazione per esempio vedete ci sono dei link qua abbiamo un grassetto e così via io sono interessato a solo testo non sono interessato a riportare un'eventuale formattazione preesistente all'interno di un nuovo documento in questo caso invece di fare incolla devo fare incolla speciale e gli dico che sono interessato soltanto a testo per esempio non formattato quindi non voglio la formattazione che esisteva né per esempio voglio copiare anche i link e quant'altro che sia presente nell'originale sono interessato a puro testo come divenne copiato senza alcuna formattazione sono scomparsi i link e quant'altro era presente nel documento originario imporre un elenco puntato a due livelli allora questo non ci serve più che significa a due livelli allora per esempio cominciamo a selezionare tutto l'elenco cominciamo a mettere un elenco puntato ora vorrei che tutti i nomi di persone fossero un sottogruppo del gruppo degli artisti ecco qua fino ad altri per farlo deve dare un sottolinello quindi un secondo livello di questo degli artisti deve introdurre usare cursante aumenta rientro quindi ho creato un secondo livello nel mio elenco puntato stessa cosa posso fare per questi altri signori che appartengono alla categoria altri ho creato un grafico a due livelli potrei creare anche ulteriori livelli vedete facciamolo per esperimento potrei farlo diventare questo un sottolinello di questo e così via naturalmente basta rientrare ridurre il rientro per riportare le cose per eliminare il sottolinello che abbiamo introdotto imporre come simbolo del secondo livello l'immagine stemma allora selezioniamo questo secondo livello abbiamo già visto che io posso cambiare il tipo di immagine ma posso anche definire un nuovo tipo di punto elenco che posso per esempio ottenere mediante un'immagine presente in un file da me posseduto nel computer clicco su immagine vado a importarla vado a cercare la posizione in cui si trova l'immagine faccio aggiungi quindi ho aggiunto questa immagine come possibile punto elenco poi faccio la selezione ne faccio e faccio ok era questa qua che si chiama la strema ok e l'ho usata come punto elenco la stessa cosa anche qui adesso posso trovarla anche tra quelli usati più recentemente e quindi non ho bisogno di ripetere la procedura portare tutti i margini a 3 cm allora i margini sono questi spazi bianchi intorno al foglio che non vengono usati normalmente hanno una dimensione standard che io però posso variare basta andare al layout di pagina margini o dei margini con dimensioni preimpostate oppure volendo posso usare dei margini personalizzati mediante questa finestra di dialogo e portarli a 3 cm sinistro superiore inferiore e destro volendo se ho problema della rilegatura cioè so che il mio documento deve essere rilegato per cui il sistema di rilegatura ruberà uno spazio ulteriore posso prevederlo aggiungendo un ulteriore margine che serva a tener conto dello spazio rubato dalla rilegatura e ho cambiato e ho cambiato quindi adesso i margini del foglio inserire un'intestazione diversa per le pagine pari e dispari allora l'intestazione è questa zona in alto che si può usare per aggiungere le informazioni per attivarla basta cliccarci sopra fare doppio clic l'intestazione in generale è unica per tutto il documento cioè quello che scrivo in una pagina comparirà nell'intestazione di tutte le altre pagine però posso fare delle differenziazioni per esempio posso fare in modo che l'intestazione con la prima pagina sia diversa da quella di tutte le altre pagine o posso come nel nostro caso distinguere tra l'intestazione di pagine pari e l'intestazione dalle pagine dispari nelle pagine pari devo scrivere il simbolo di copyright entro il turismo di Praga allora il simbolo di copyright non è presente sulla tastiera quando devo inserire un carattere che non è presente sulla tastiera posso fare inserisci simbolo e andare a cercare il simbolo che mi interessa nelle pagine dice di inserire il nome e cognome allora mi porto su una pagina dispari e metto il mio nome e cognome quindi adesso in tutte le pagine pari comparerà il copyright entro il turismo di Praga e tutte le pagine dispari compiere il mio nome e cognome nel piedipagine inserite vari campi automatici allora il piedipagine è la parte in piediore del foglio come vedete ci sono vari pulsanti per esempio posso mettere la data e l'ora e sceglierne il formato posso fare in modo che la data dell'ora sia fissa oppure posso fare in modo di aggiornarla automaticamente con l'ora fornita dal calendario interno del computer quando viene aperto il documento questo si ottiene cliccando sull'opzione aggiorna automaticamente se non metto quell'opzione la data rimarrà sempre la stessa posso per esempio inserire delle parti rapide vedete un campo proprietà del documento per esempio posso mettere il nome dell'autore posso inserire un campo ad esempio il file name cioè il nome del file volendo anche il percorso posso mettere ad esempio la dimensione del file se mi interessa e così via il numero di pagina allora io posso numerare il mio documento inserisci il numero di pagina e posso decidere in quale posizione nel nostro caso nel margine vado a scegliere tra gli stili che mi propone e ho numerato le mie pagine inserire una filigrana nel documento usando l'immagine estrema allora se andiamo al layout di pagina posso inserire una filigrana una filigrana che può essere un testo o una filigrana personalizzata per esempio da un'immagine quindi filigrana immagine seleziono 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 l'immagine faccio ok e ho usato lo stemma per creare appunto uno sfondo detto filigrana per tutte le pagine del documento per impure uno sfondo colorato e un bordo pagina sempre in layout di pagina posso andare a scegliere un colore di sfondo e un bordo di qui vado a scegliere lo stile lo spessore salvare documenti in formato diversi come pagina web allora questo è un documento in formato word 2007 quando vado a usare il comando salvo col nome posso salvarlo per esempio con un formato word 2003 se ci sono problemi di compatibile del computer mi avverte e posso annullare l'operazione o continuare lo stesso rischiando però la perdita di parte delle informazioni posso salvare i nostri formati per esempio odt che è il formato della suite open source posso salvarlo come pdf e così via posso salvarlo per esempio in richdex format che è il formato di wordpad o posso per esempio salvarlo come pagina web e ho creato quindi rapidamente da un documento word una pagina web salvare il documento con password di lettura scrittura e allora anche per word trasciniamo di nuovo in documento word possiamo proteggerlo in lettura e scrittura basta sempre dalla finestra di dialogo salva con nome andare a strumenti opzioni generali e introdurre allora dobbiamo prima trasformarlo in documento word e poi andiamo a fare salva con nome opzioni strumenti e opzioni generali entro una password di apertura per impedire la lettura se non si conosce la password oppure una password di modifica che consente di leggere il documento ma non di modificarlo se non si conosce la password ci viene richiesta di nuovo la password per conferma allora ultima domanda aprire il file data popolazione e allineare il test usando una tabulazione sinistra un centimetro e una decimale a 10 centimetri allora apri data popolazione noi abbiamo questo test vorremmo fare in modo che tutte le date si trovassero esattamente aspettate devo togliere le tabulazioni già presenti in modo da vorrei che tutte le date fossero allineate esattamente a un centimetro dal margine del foglio e vorrei che tutti i numeri fossero allineati esattamente a 10 centimetri dal margine del foglio questo si ottiene creando delle invisibili linee verticali sul foglio che si chiamano tabulazioni quindi le tabulazioni sono dei delimitatori di posizione all'interno del foglio che posso usare per ordinare incolonnare in maniera perfetta i dati allora per esempio adesso incomincio a segnare queste tabulazioni paragrafo tabulazioni mi serve una a un centimetro quindi scrivo uno tabulazione a sinistra imposta poi me ne serve una 10 centimetri che è però una tabulazione decimale ok ora per utilizzarle basta usare il tasto delle tabulazioni sulla tastiera come vedete potete già apprezzare la tabulazione sinistra si chiama così e perché appunto le parole vengono allineate sul lato sinistro la decimale serve per i numeri i numeri come vedete vengono allineati sul lato destro se però vedete io continuo sempre a scrivere se metto la virgola vi accorgerete che si chiama decimale perché in realtà in presenza di numeri allinea esattamente la posizione della virgola per tutti i numeri quindi i numeri possono contenere cifre e cifre dopo la virgola in dimensioni qualsiasi ma verranno sempre esattamente allineati e incolonnati sul mantenendo fissa la posizione della virgola